Quando mangiamo c'è una pratica specifica che mi piace tantissimo, che Rinpo ci ha insegnato un po' di volte, in cui noi facciamo in questo modo. Prima di tutto siamo di fronte al nostro piatto di cibo, può essere una bevanda, una colazione, uno snack, la cena. La prima cosa che facciamo, noi facciamo la purificazione del cibo, come Om Ahum, oppure Eyam Ram Lambam, e facciamo la visualizzazione della purificazione, e di base immaginiamo che possiamo farlo in modo molto estensivo, molto semplice, senza entrare in troppi dettagli, possiamo immaginare che il cibo riceve tutte le benedizioni di corpo per la mente di tutti gli esseri sacri, e l'Om Ahum si assorbono nel cibo e questo diventa completamente puro, senza ogni sorta di impurità che possa crearci malattie o altro, e si trasforma in ettare. E poi dopo questo, prima di mangiare, ci focalizziamo al nostro cuore, che nel nostro cuore c'è il Guru Buddha, come Guru Buddha Shakyamuni, il nostro proprio Guru, come Tara, come ogni altro essere e aspetto e caratteristica illuminata, e poi questo si assorbe. Noi poi mangiamo il cibo e ci focalizziamo nel cibo che entra, il vento che entra nel nostro canale centrale, il nostro vento digestivo cresce, ci permette di digerire quel cibo, e quindi attraverso questo io offro la parte buona, l'essenza del cibo, il Guru Buddha ha il mio cuore, il Guru Buddha sperimenta una sensazione di beatitudine, e come conseguenza anch'io sperimento beatitudine. E la parte restante la offro a tutti i microrganismi che vivono nel mio corpo, quindi mi focalizzo su questi miliardi e miliardi di esseri che vivono all'interno di me, e faccio un'offerta a loro, tutti i batteri che sono lì possano essere nutriti da questo cibo che io sto mangiando. E offriamo questa essenza del cibo a loro, e possa attraverso i meriti che ho generato qui, nel fare questa offerta, quest'atto di generosità, e possa io attraverso la connessione che io ho creato con questi esseri, perché loro nutrono la mia vita e io nutro la loro vita. Noi creiamo una speciale connessione, posso ogni volta che io raggiungo, quando io raggiungerò lo stato della buonanità, posso io guidare ogni singolo essere verso questo stato dell'illuminazione, questo diventa un atto di dare il Dharma, non glielo diamo in questo momento, ma è come portare il loro futuro nel presente. Quindi ci colleghiamo con tutti questi esseri che vivono nel nostro corpo, e immaginiamo che ciascuno di loro diventa soddisfatto e si sente nutrito e felice, e questo porta il nostro corpo ad essere forte e in buona salute. Abbiamo pace nella mente e gioia. Ma quando noi mangiamo, possiamo collegarci agli altri, e quindi dedichiamo, possiamo a noi, attraverso il cibo che mangio, posso permettere a tutti gli esseri possibili di ricevere tutta questa energia del cibo, e attraverso l'energia che io metto nel mangiare questo, posso sviluppare il sentiero dell'illuminazione, seguendo il sentiero del Dharma, e posso raggiungere l'illuminazione, e posso dedicare questi meriti a tutti coloro, e posso restituire, dedicare a tutti loro, tutte le forme di vita che sono collegate ad essi, e che mi permettono di avere questo cibo oggi. E quindi, tante cose che possiamo fare, ma principalmente quando mangiamo, prendiamo l'opportunità di collegarci a noi e agli altri, praticare l'amore e compassione, e praticare la generosità. Noi non mangiamo come un atto egoistico. Perché io mangio? Perché io nutro il mio corpo, e avendo il mio corpo forte, noi possiamo effettivamente agire, praticare ed essere di beneficio per gli altri. Quindi offro gli altri questo, invece di mangiare solo, perché mi piace mangiare qualcosa che è gustoso. Quindi cerchiamo di invertire, solo per me stesso, quindi cerchiamo di invertire questa attitudine. E questa l'applichiamo ad ogni azione della nostra vita. Quindi cerchiamo in ogni situazione che attraversiamo in ogni cosa, cerchiamo di collegarci all'amore e alla compassione verso gli altri, e anche alla visione corretta della realtà. Questi due cerchiamo di applicarli in ogni tipo di situazione. Troviamo...